Pierpaolo Panzieri era un ragazzo altruista, sono le parole pronunciate dalla madre Laura Gentilucci durante l'udienza svoltasi questa mattina per il processo a carico di Michael Alessandrini, il trentenne pesarese accusato di omicidio con gli aggravanti della premeditazione, crudeltà e futili motivi. Oggi in aula a Pesaro la mamma di Pierpaolo ha ripercorso la vita del figlio raccontando anche del rapporto d'amicizia con Alessandrini, reo confesso dell'omicidio avvenuto la notte del 20 febbraio 2022 nell'appartamento di Via Ravelli in centro a Pesaro. Il trentenne attualmente in carcere a Villa Fastigi è un ragazzo particolare, l'ha definito così Laura Gentilucci che ha scritto una lettera alla procura chiedendo giustizia. Io ho le stesse aspettative che vi ho detto il primo giorno che è successa questa cosa, io voglio giustizia per mio figlio, io voglio che sia dato l'ergastolo a questa persona perché io e la mia famiglia, il nostro ergastolo c'è stato sentenziato il 21 febbraio, il 20 febbraio, quando mio figlio non c'era più e a me questo ergastolo non passa più, quindi penso che la giustizia terrena debba essere un ergastolo anche per chi ha fatto questa cosa a mio figlio, che alla fine poi cos'è? Togli la libertà, mio figlio è sottoterra. Pierpaolo amava la musica, suonava il pianoforte, la chitarra, la tromba e scriveva anche poesie. Quest'ultime sono state raccolte in un diario consegnato da mamma Laura, la presidente della corte d'assise Lorena Mussoni. L'ho voluto consegnare perché qualsiasi cosa io a parole posso dire di Pier, comunque sono parole. E invece lì dentro c'è proprio l'essenza della sensibilità di quello che era Pier. E quindi penso che può descriverlo molto meglio una sua poesia che mille cose che la mamma può dire del suo figlio. Ascoltata questa mattina anche la testimonianza del fratello di Pierpaolo Gianmarco Panzieri, i due lavoravano insieme nella ditta conduzione familiare, è stato lui Gianmarco quella tragica mattina ad entrare per primo nell'abitazione di Via Gavelli. Il prossimo 30 ottobre si svolgerà l'udienza che chiuderà la fase istruttoria del processo in corte d'assise a carico di Michael Alessandrini.